Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Samu e oggi, ma posso sapere quant'è che mi registra? E oggi siamo su Brawl Stars E allora, per quando vedrete il mio account non prendetemi in giro e dite che faccio schifo, è perché questo non è il mio vero account Perché purtroppo il mio vero account l'ho perso No, tu devi morire, eh, sì oggi siamo su Brawl Stars e volevo fare delle partite E, eh, sì, vabbè, ma se mi spunta uno è il primo da, da dietro, non posso sopravvivere Va bene, sentite, però non potete lasciarmi in mille, comunque, ma mi vede la torretta? No, se sto qua non si che mi vede Faccio così e lo rompo Faccio così e muoiono tutti Non muore Ok, questa raffagemme a quanto pare la stiamo vincendo tantissimo No, 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 e dai Perché sto usando bombardino? Perché ho usato bombardino? Sono scemo io Faccio così e siete dead Senti, non la sto registrando Comunque, eh sì, stiamo vincendo Sìììììììììììììììììììo No, 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 non dobbiamo ancora ballare nella vittoria perché potrebbe spuntare Potrebbe spuntare qualcuno Da qua Aspettate un attimo Allora questa partita è andata più che bene E comunque Cambiamoci subito brawler Che io mi sono scordato E facciamo una Coppia Perché io nelle singole muoio subito Che sono un nabbo Nelle singole Infatti ho sei vittorie in singolo Se andate a vedere Non me ne ho mai reso conto di aver fatte solo sei Un bombardino come compagno è ottimo Perché Questa squadra può colpire Sia da lontano sia da vicino Il problema ora è Questa scelli bandita Che mi uccide No bombardino Uccidilo Bravo bombardino Bravo A otto Bravo campera E però io non ho gemme Non è che posso Sopravvivere Cioè no volevo mirare qua Ok vedo lì Qualcuno Da rushare Oddio Guarda guarda basta che lo colpisce una volta È dead No 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 Dai no Dai dovevo usare la ulti Sono stupido È meno uno Sentite Facciamo un'altra battaglia Ok Andiamo Andiamo Sfondiamo qua E abbiamo un'anita Guarda una compagna di Ami Di giochi Questo po' c'è morto Stiamo facendo una strage Possiamo andare qua No E non dovevamo Sentite ragazzi Se duriamo poco Mi sa che sto lasciando troppo Secondo me Ma vabbè Se queste partite durano almeno fino ai top 2 Ne faccio ultime due partite Perché non posso neanche Ora per sbaglio ho attivato una modalità Su Mobizen E non posso neanche vedere quanto minuti sto registrando Per evitare di registrare troppo Devo finire presto Poi magari la tolgo Quella modalità Comunque Qua abbiamo dei compagni di giochi Guarda com'è morto Guarda questo Ascelli Ci abbiamo un amico Lo lasciamo Guarda io uso Basta che uso la ulti Ho vinto Oh dead No ma io che ne sa Oddio Mi dispiace non dovevi Oddio 10-11 power up La gente che ci vede fa Oddio Ma dov'è che l'ha presi No ho usato la ulti Se sbaglio ho usato la ulti Te l'ho visto Non sono scemo No dai Ma non puoi uccidermi così Pialo Grande Abbiamo vinto Forse abbiamo vinto Eh si fa amicizia Eccoli Madonna Madonna Vieni qui Ti uccido male No 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 Dai È andato insieme Nella zona Comunque ragazzi Per ora il primo video di Brawl Lo concludo qua Ditemi se ne volete altri Di video così E show Wow Ciao